17. Attraverso i secoli La Genesi ci racconta come tutto il cielo e la terra e quanto si trova in essi ha avuto origine da Dio in una successione ideale di una settimana di tempo. A me sembra una leggenda. Commento Ciò che invera, al di là dei simbolismi, ogni leggenda, tanto da farne una religione, è quanto ha creduto in essa l'umanità che l'ha ascoltata attraverso i secoli, tanto da farne una fede che è un sentire che è coscienza.